Il Salone Nautico Internazionale di Genova costituisce una vetrina prestigiosa per tutte le imprese del settore. La Calabria ne ha parecchie, sono in molte occasioni artigiani che sono partiti tanti anni fa con le loro produzioni di eccellenza e grazie alla loro abilità, grazie alla loro creatività si sono affermati in tutto il mondo. Oggi esistono le seconde generazioni che stanno coniugando a quella abilità, a quella creatività, a quella bellezza proprio degli artigiani la innovazione necessaria per stare sul mercato e per essere competitivi. Il Governo regionale intende sostenere questi imprenditori, lo ha già fatto e continuerà a farlo, anche perché è un settore in continua crescita, non si è arrestato e non si è fermato di fronte alla pandemia, nel 2021 e nel 2022 è cresciuta parecchio anche perché noi abbiamo la fortuna di avere imprese che operano in una filiera corta, non hanno avuto necessità di approvvigionarsi fuori per continuare a costruire le loro imbarcazioni perché l'80% della componentistica molte volte viene prodotta in Calabria. Non dobbiamo fare altro quindi che accompagnarli, sostenerli, farli promuovere i loro prodotti a queste e in altre fiere internazionali e fare in modo che quindi crescano e si affermino anche sui nuovi mercati.